Quello che vedete scritto sulla copertina, ossia che bello vederlo lì, è stata la mia prima reazione dopo che si era capito in poche parole che il podio sarebbe stato quello. Sì, ok, Kitzbühel è l'ultima pista sulla quale uno veramente deve, può e deve esultare prima del previsto. Nel senso, abbiamo visto uno svizzero Boasset con numero 53 che si va a posizionare in nona posizione. Per carità non è stato insediato il podio. Oggi, rispetto magari ad alcune gare del passato, anche alla stessa gara dello scorso anno in cui proprio Shider ottenne il primo podio in carriera in Coppa del Mondo, secondo posto anche allora, scese Shider con un pettorale veramente alto. Insomma, ci furono un po' più colpi di scena, ecco, se non ricordo male. Oggi un po' meno da questo punto di vista, però ci sono stati comunque, ecco, ad esempio un Boasset che col 53 chiude in nona posizione, è veramente tanta roba. Ma che bello vedere Shider lì in mezzo a sandwich praticamente tra Sarasen che torna a vincere, e ora parliamo di quanto ha vinto, e Odermatt. Bellissimo veramente, e dimostra Shider che quando si va sulla Strife, che è la pista forse più, che incute più paura al mondo, mettiamola così, quando si va sulla Strife lui entra in un'altra modalità, nel senso è proprio a suo agio, perché non può essere un caso che due podi in Coppa del Mondo, due volte sulla Strife, la pista che da molti è considerata la più difficile, la più iconica al mondo proprio, no? E quindi c'era stato già il quarto posto di Shider nella mini discesa, diciamo, nella discesa di recupero di Wengen al giovedì, una settimana fa più o meno, poco più, c'era già stato un quarto posto lì, quindi non è un risultato, diciamo così, isolato, è comunque un buon Shider. E oggi torna sul podio, ma quando vado avanti a Odermatt di tre decimi, io ci ho creduto, e perciò ho rosicato ancora di più dopo. Mi faceva paura Sarrazen, però non so, avevo delle sensazioni positive, e vedere quel meno 0.05 di fianco al nome di Sarrazen, una volta che taglia il traguardo proprio il francese, mi ha fatto male al cuore, cioè, devo dire la verità, ci avevo creduto veramente tanto, se avesse vinto sulla Strife Shider, cioè, verrà ricordato, no? Per sempre, uno che, due podi in Coppa del Mondo, il primo, il secondo posto lo scorso anno, se fosse arrivata la vittoria, ecco, prima vittoria in Coppa del Mondo, al secondo podio praticamente, alla seconda volta che va sul podio, e sempre sulla stessa vista, la più difficile praticamente, quella di Kitzbühel, quindi sarebbe stato un qualcosa di clamoroso. Oh, c'è anche domani, eh, attenzione, c'è pure domani, c'è la seconda discesa domani, quindi, chi lo sa? Eh, come non immaginavo magari di vedere uno Shider oggi sul podio, eh, oggi non sappiamo cosa accadrà domani, quindi attendiamo e vediamo, magari sarà una gara più pazza, tra virgolette, rispetto a quella di oggi, e speriamo che gli italiani possano, possano essere protagonisti. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente, su questa giornata di sport invernali, mettiamoci anche il biathlon, di cui parlerò in breve, parlerò in breve fra poco, e che dire, Shider fa una parte centrale di gara veramente mostruosa, la parte registrata che saltano aveva ad un certo punto mezzo secondo di vantaggio su un Odermatt, che ha sciato comunque bene oggi, ma meno di altre volte è stato magari un po' impreciso in alcuni passaggi, è ok, ma alla fine comunque era veloce, e Shider, grazie a quella parte centrale veramente top, veramente veramente top, riesce a mantenere quanto meno, o meglio a perdere poco nella parte finale, e a piazzarsi con 29 centesimi di vantaggio appunto su Odermatt, che era già sceso, che era primo, e si era già un po' cagato in mano, passatemi questo termine un po' volgare, perché poco prima era sceso Cochran Siegel, che gli era andato dietro praticamente di un solo centesimo, di un solo centesimo, quindi un Odermatt che già deve tornare a che fare con questi centesimi, oggi, ricordiamo se non erro, sì in Val Gardena, due volte sul podio in quei giorni lì, due volte proprio sfuma la vittoria per pochissimi centesimi, oggi ancora una volta mantiene il podio per un centesimo, anzi per due, perché se avesse fatto un centesimo meglio Cochran Siegel sarebbe stato un ex equo, quindi sarebbe stato comunque podio per lo svizzero, però diciamo che per due centesimi oggi mantiene il podio. Davanti, nelle prime due posizioni, cosa succede? Appunto, scende Shider, poi, dopo un po', Sarra Sen, avevamo paura, avevamo paura ma è uno che al momento ha una fiducia talmente tale da non aver paura di niente, cioè si butta a capofitto, sa cosa deve fare, è tranquillo, i materiali saranno anche buoni, la mentalità non è positiva di più e quindi fa quello che deve fare Sarra Sen, vincere, perché al momento è uno dei più forti in Coppa del Mondo, per forza di cose così. Ho rosicato tanto, mi sono arrabbiato, devo confessare che io ho mandato anche qualche piccola maledizione a Sarra Sen proprio in quel momento, ripeto, appena ho visto meno 0.05 perché sarebbe stata una storia gigantesca, quella di Shider che vince sulla Strife al venerdì, cioè una roba veramente incredibile. Peccato veramente, ma come dimostra anche lo sguardo, come dimostrano le espressioni dell'Alto Atesino, dell'Azzurro, felicissimo perché secondo podio in Coppa del Mondo, ancora secondo sulla Strife, c'è ancora la gara di domani, certo, sarà difficile comunque ripetersi, perché se Sarra Sen ed Otermatt sono delle costanti, diciamo Shider un po' di meno, anche se appunto, essendo sempre a Kitzbühel, almeno per questo weekend, per queste due gare, potrebbe essere una costante pure Shider. Vediamo, vediamo cosa succederà. Sarra Sen però fa tutto veramente alla grande e io pensavo anche potesse guadagnare un po' di più nella parte finale, aveva veramente tanta, 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 tanta velocità. Alla fine, guarda, guardate, anzi, speravo guadagnasse anche un po' di più, magari oltre il decimo sicuro. Almeno dicevo, ok, avrei rosicato un po' di meno, ma per 5 centesimi hanno mostrato la distanza, il distacco in termini proprio di metri fra i due al traguardo dopo praticamente 1 minuto e 55, quindi 5 centesimi solo il distacco che equivale a 1 metro e 40 circa fra i due. Veramente una roba irrisoria dopo una discesa del genere su una pista del genere. Quindi grandissimo Shider però, anche se mi sta passando piano piano, e ripeto, grandissimo Sarra Sen, veramente in una forma spaziale però rosico, rosico veramente tanto, veramente tanto. Comunque, grandissimo Shider e fa veramente un grandissimo effetto vederlo lì, un bellissimo effetto. Poi quinto abbiamo, quarto Cochran Seagal abbiamo detto, appena dietro Odermatt, quinto Cameron Alexander a meno di mezzo secondo dal vincitore, ed è stato Cameron Alexander il primo proprio in assoluto a scendere. No, no, anzi scusate, mi sono sbagliato, il numero 4, ho avuto un lapsus. Poi Dominic Paris, 58 centesimi, si parlava del fatto che stanotte dovrebbero crollare le temperature lì a Kitzbühel, quindi magari domani nell'altra discesa sarà molto ghiacciato il manto nevoso, quindi avremmo una pista veramente molto ghiacciata e quindi Paris si trova molto bene in quelle condizioni lì. Comunque, un sesto posto a mezzo secondo circa, poco più dal vincitore, non è una brutta gara. Certo, si poteva fare meglio alcuni passaggi, lui li soffre maggiormente, eccetera, però non è nemmeno una brutta gara, anzi, sesto posto. Chi fa una brutta gara è Mattia Casse, che se le altre volte dicevamo, no, comunque costante, più o meno sempre in top 10, ma non riesce a fare quello step, oggi quello step purtroppo su una pista che perdona poco, diciamo, lo fa in negativo, anzi, due step in negativo. Purtroppo quindi sbaglia e chiude addirittura in 34esima posizione di pochissimo davanti ad un altro italiano, Molteni. Crickmeier in settima posizione, ottavo Murisier, nono, questo svizzero, Boasset con il numero 53, col petrolio 53, chiude praticamente ad un secondo e undici di distacco, e decimo un altro francese, Allegre, o Allegre, non so come si dica sinceramente. Undicesima posizione a due centesimi per un finlandese, Leto. Un altro con pettorale comunque numero 37, sarebbe stata una bella roba vederlo comunque in top 10, non ricordo quando un finlandese sia l'ultima volta arrivato in top 10, sinceramente, quindi peccato. Poi altri due francesi, via via, quindi la pattuglia francese che è ben nutrita, poi un altro con pettorale altro, alto come vediamo, il tedesco Schweiger col 39 chiude in 14esima posizione, via via altri, fino ad arrivare a Guglielmo Bosca, sul quale ho qualche rimpianto, perché comunque col 40 chiude diciassettesimo, ma fino al quinto intermedio aveva 35 centesimi di ritardo da Sarrazen. Poi negli ultimi due decimi e negli ultimi due intermedi paga veramente tanto e chiude ad un minuto e 38, quindi perde praticamente un secondo con due intermedi, ma dopo i primi cinque intermedi aveva 35 centesimi di ritardo. E non scordiamoci che Bosca, un po' di giorni fa, ha ottenuto un grandissimo quarto posto a poco dal podio, quindi comunque è un'altra prestazione, un'altra buona prestazione, un'altra incoraggiante prestazione, quindi bene così. Questo per quanto riguarda gli uomini, poi per quanto riguarda le donne oggi nessuna gara, domani invece ci sarà il gigante, se non erro, sì, a Jasna, non so se si pronuncia così, lo ripeto sempre, in Slovacchia, quindi a casa di Vlova, ci voleva comunque una gara in Slovacchia, vediamo Vlova cosa è riuscito a fare, domani questo slalom gigante, al quale ovviamente parteciperà anche la pattuglia azzurra, e dopo domani lo slalom speciale. Tra l'altro andando qualche giorno indietro, anzi, tre giorni indietro, sì, perché rispetto ad oggi, che è 19, il 16, martedì, appena passato, si è svolto lo slalom speciale di Flakau, che ha visto vincere ancora una volta Shifrin su Vlova. La lotta più accesa è tra le due, contento che abbia vinto Shifrin, e se vincesse in Slovacchia Vlova non mi dispiacerebbe in casa, comunque sarebbe una gran bella iniezione di fiducia per lei, e anche a livello proprio di gara, a livello di sfida con la Shifrin, anche per la Coppa di specialità e quant'altro. Comunque, dicevo, contento che abbia vinto Shifrin a Flakau, anche per quello che sta passando in questi giorni, perché comunque la caduta rovinosa di Kilde, che è il suo ragazzo, si sarà veramente spaventato a morte, comunque vedere Kilde lì sul letto di ospedale conciato non benissimo, insomma, quindi contento per la vittoria di Shifrin. Passando al Biathlon, passando al Biathlon, siamo ad Anter Selva, l'unica ovviamente tappa italiana della Coppa del Mondo di Biathlon, le due individuali si sono concluse. Quella maschile ieri, quella femminile oggi, domani sabato, quindi tempo di staffette, e poi dopo domani, domenica, tempo di mass start. Purtroppo veniamo penalizzati in entrambe le gare, praticamente dai troppi errori al poligono. Ieri, nella short individuale, perché c'è questo format, è un individuale sì, ma più corta del solito. Io preferirei l'individuale normale, quindi quella completa. Però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque ieri, individuale maschile, con Giacomelle che con quattro errori chiude praticamente ottavo, se non erro, lo vado a ricontrollare subito, ma credo di sì. Comunque, la 15 km, individuale maschile, sì, Giacomelle con quattro errori ottavo. Tutti coloro che sono arrivati praticamente prima di lui, chi un errore, chi due, chi tre al massimo, chi due. Il primo, vabbè, Johannes Boa ha fatto una gara a parte. Cioè, a parte, vabbè, doppietta dei fratelli Boa, ma Johannes Boa è stato clamoroso, anche se nell'ultimo giro ha faticato un bel po'. Però è stato clamoroso al poligono e clamoroso abbastanza, o meglio, abbastanza clamoroso negli altri tre giri di gara. Nell'ultimo giro paga un po', infatti le prende anche, tra virgolette, per modo di dire, da suo fratello Tariei. Tariei, però, insomma, che arriva a un minuto e trentasei con due errori in più, però. Poi, terzo il tedesco, Johannes Kuhn, con due errori e butta anche un secondo posto, quantomeno, no? Arriva ad uno e quarantaquattro. Poi, Dale, Ponsilluoma, Kristiansen, Ritmüller, che ha questo tedesco giovane un errore, settimo, si va a piazzare davanti a Giacomell. Certo, Giacomell con quattro errori ed è dietro a Ritmüller, ok, però questo tedesco, l'esordio in Coppa del Mondo, settima posizione, quindi, meglio di così, come se fosse una vittoria. E quindi, Giacomell un ottimo ottavo posto, non per quanto riguarda il poligono, ma per quanto riguarda il tempo sui sci, perché, ripeto, con quattro errori, piazzarsi ottavo, è veramente una gran gara di Giacomell. Peccato anche, vabbè, per le condizioni, proprio perché non era assolutamente bel tempo, la nebbia, le cose, quindi un poligono assolutamente non semplice per molti. Però, Johannes Bo, zero, zero, quattro poligoni, li prende tutti e venti i bersagli, quindi, mostruoso ieri, letteralmente mostruoso. Per quanto riguarda le donne, invece, abbiamo Carrara, che con gli sci fa una grandissima prestazione, solo che poi, praticamente, salta all'ultimo poligono con due errori. Se non erro, sì, però, grande e rincuorante prestazione sugli sci, le italiane, Dorotea Wierer e Vittozzi, quattordicesima e sedicesima. Wierer, purtroppo, sugli sci paga veramente tanto, fa un errore, Vittozzi ne fa tre, uno al primo, uno al secondo e uno al terzo poligono. Purtroppo, vince l'Enaeki. L'ultima vittoria svizzera, insomma, era datata molto tempo fa, se non erro, ma, comunque, l'Enaeki è stata letteralmente perfetta. 20 su 20, comunque, sugli sci, credo, abbia fatto un buon tempo. Simon, certo, a 20 secondi, cioè, con due errori, quindi, va molto più forte rispetto a l'Enaeki. Anzi, vabbè, sugli sci non credo che abbia fatto chissà cosa, sì, giustamente, perché, no, no, no. Sugli sci, ventesima, comunque, prende un minuto e 22 da Lampic e praticamente un minuto e 21 da Simon, che, infatti, con due errori, le arriva a 20 secondi. Scusate, ho detto una bacianata, comunque, in effetti. Simon, seconda, terza, Jean Monnot, quindi due francesi sul podio, ma non c'è Bresas-Boucher, che paga, anche oggi. Poi, Foyt, quindi Germania, Arnekleiv, che butta, possibilmente, via la vittoria con, o il podio sicuro con, con quell'ultimo errore, con l'errore all'ultimo poligono, scusate. Poi, butta un po' anche il podio, perché non ce la fa più di tanto nel giro finale, anzi, va più lenta di quelle che l'hanno preceduta. Poi, Knotten, sempre Norvegia, in stessa posizione. Altre due tedesche, quindi Etik e Preuss, in settima e ottava, e poi Lien, altra norvegese, e, a chiudere, Elvira Oberi, Svezia, in decima posizione. Domani abbiamo letto Staffette, e poi, domenica, le Mass Start. Quindi, questo è, ragazzi, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Comunque, ecco, anche nel Biadron, Giacomel, un'ottima gara. In campo femminile, un po' meno, ma c'è quella prestazione sugli sci di Carrara, che veramente, balza all'occhio, ecco, balza all'occhio. Anche se poi al poligono non è andata come, come, magari, anche lei si sperava, anche lei sperava. Però, va bene così. Certo, sugli sci, grande prestazione. Comunque, forza azzurri sempre, buonasera da tutti, al prossimo video.